Le soluzioni in termoformato di Nefab permettono una protezione ottimale del prodotto. Sono customizzabili e sostenibili grazie all'elevata quantità di materia prima riciclata. I termoformati possono essere progettati per il riutilizzo, contribuendo all'economia circolare e alla riduzione dell'impatto ambientale. Una progettazione ad hoc garantisce ai termoformati Nefab estrema leggerezza e dimensioni di stoccaggio ridotte. La tua azienda è pronta per il prossimo passo verso la sostenibilità? Segui Nefab e contattaci subito!